Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo relativo al meteo in Italia, momento per momento, e grazie, se un altro terremoto colpisce l'Italia lunedì notte, 26 giugno 2023, questo verso le 5.39 minuti di sera ora locale. E questo è nell'estremo sud, precisamente a 69 chilometri da Messina, ma per fortuna questo terremoto colpito in mezzo al mare e a nord dell'isola di Sicilia, perché se il terremoto si fosse abbattuto sulla terraferma sarebbe stato più potente e violento, secondo il centro europeo per monitorare i terremoti, l'intensità della scossa ha raggiunto circa 2,6 gradi sulla scala Richter, ed è una scossa piuttosto lieve, perché come ho detto, ha colpito in mare aperto, e se si fosse avvicinato un po' alla costa, sarebbe stato un terremoto molto forte, e fortunatamente questo terremoto non ha causato alcun danno e qualsiasi altro nuovo è importante che te lo forniamo in seguito alla fine, sei in buona salute.